Ciao a tutti, come attivare la legge di attrazione? Prima di affrontare questo tema, però, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Torramasco e iscriviti al mio nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Allora, come possiamo fare per attivare la legge di attrazione? Bene, ci sono alcuni passi fondamentali. Il primo è avere una piena consapevolezza di quelli che sono i propri obiettivi, definirli in modo preciso, per esempio in modo smart, specifico, misurabile, accessibile, realistico e temporalmente collocato. Devo sapere esattamente quello che voglio. Quello che voglio deve essere misurabile, perché devo capire se mi avvicino. Deve avere un senso realistico, accessibile e collocarlo nel tempo. Quindi questo è il primo punto, perché, come dire, non posso chiedere all'universo qualcosa se non so che cosa voglio. Poi avere fede e fiducia di poter realizzare questo qualcosa. Avere fede e fiducia in se stessi, questo è fondamentale. Quindi, perché se noi non crediamo di poter realizzare qualcosa, non lo realizzeremo. Questo è normale. Noi non crediamo in ciò che vediamo, ma vediamo ciò che crediamo e realizziamo ciò che crediamo. Quindi questo è fondamentale. Poi dobbiamo connetterci quotidianamente, diciamo, con questo obiettivo. Eliminare tutti i pensieri disturbanti, tutti i pensieri che possono interagire in modo negativo con questa situazione. Dobbiamo imparare a eliminare pensieri disturbanti. E poi, come quarto punto, dobbiamo agire. L'azione è quello che serve per riuscire a, diciamo, a dare un segnale forte all'universo che questa volta siamo determinati, che questa volta raggiungeremo l'obiettivo. Questo è il passo fondamentale. E l'ultimo passo, altrettanto importante, altrettanto fondamentale, è imparare la gratitudine, essere grati. Essere grati cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo ringraziare per quello che abbiamo l'universo. La legge di attrazione è una legge di risonanza, è una legge, diciamo, che va stimolata attraverso questi passaggi per entrare in risonanza profonda con quello che vogliamo e che desideriamo raggiungere, senza avere bisogno, senza mantenere un attaccamento. Quindi l'altro ingrediente poi fondamentale per attivare la legge di attrazione è il distacco dal risultato. Distaccarsi dal risultato vuol dire non essere bisognosi. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramaschi, iscriviti al canale e iscriviti al mio nuovo canale Felicità e Benessere di cui ti posto i link in descrizione. Ciao a tutti!